Ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani, oggi parliamo di sanità e parliamo dell'ospedale San Camillo Forlanini, questa grande azienda ospedaliera di Roma e lo facciamo con il dottor Fabrizio Talba che è il direttore generale dell'azienda che saluto ben trovato nei nostri studi. Grazie dell'invito. Allora gennaio-febbraio sono stati quasi 12.000 gli accessi al pronto soccorso di questi oltre 500 in codice rosso e quasi 2.000 di questi sono stati ricoverati. In passato qualcuno ha detto che il pronto soccorso in generale, i pronto soccorsi a Roma sono a volte intasati, hanno qualche problema. La situazione com'è al momento da voi? Certamente questi due mesi sono i mesi forse più complessi dell'anno per il pronto soccorso nostro ma complessivamente per tutti i pronto soccorsi non solo della nostra regione ma di tutto il territorio nazionale. Evidentemente questi sono i mesi in cui si ha il maggior carico assistenziale per l'utenza che viene per i picchi influenzali. Evidentemente ciò mette le nostre strutture in grande affanno nella misura in cui evidentemente noi siamo un sistema, un'azienda che si sta ricostruendo. Nel ricostruirsi quindi è più difficile gestire questi momenti di piccoli e si va soprattutto in sofferenza perché molti pazienti attendono eccessivamente prima dei ricoveri. Per i dati che ha detto lei è evidente che però bisogna sottolineare una cosa che è vero che ci sono questi problemi ma altresì è vero che mai si scende, mai si fa scendere l'attenzione sulla appropriatezza della presa in carico dell'emergenza perché il pronto soccorso. Comunque il pronto intervento c'è sempre. Sempre e qui la massima attenzione. Poi se mai c'è l'attesa per il ricovero comunque il paziente viene assistito. Il tema è proprio questo, i pronti soccorsi hanno proprio come loro missione quella di far sì che il paziente venga preso in carico in base alla gravità quindi i pazienti più gravi non aspettano nemmeno un minuto. Ecco dottor Dalba com'è la situazione dal punto di vista anche dei medici, degli infermieri che abbiamo visto in Veneto in alcune regioni vengono richiamati i medici in pensione perché non ci sono. Evidentemente questo tema della carenza soprattutto di alcuni, se parliamo di medici, di alcuni professionisti in specifiche discipline, pensiamo alla medicina d'urgenza perché stiamo all'anestasia, è effettivamente un problema che adesso per esempio noi come regione siamo già partiti ma ancora di più partiremo con una stagione di grandi arruolamenti forse ci creerà un problema che oggi ancora non tocchiamo con mano, cose che invece altre regioni toccano. C'è anche la quota 100 immagino. C'è anche quota 100 che riguarderà secondo me sarà molto rilevante per il personale di comparto quindi infermieri, personale dell'assistenza sulla dirigenza medica forse un po' di meno ma comunque il tema dell'adeguatezza dei professionisti sono stati pronti all'ingresso diciamo nel sistema sanitario azionale quindi in termini di concruttura dei numeri effettivamente c'è e lì è qualcosa che va affrontato con lungimiranza perché si parte dalla programmazione dell'offerta formativa che deve essere tale da far sì che il nostro sistema sanitario nazionale abbia sempre una platea di possibili nuovi professionisti che è assolutamente un problema nazionale. San Camillo Forlini è anche un'azienda di ricerca per esempio il 7 aprile ci sarà questa maradona legata proprio alla diabetologia dell'azienda questa maradona romana internazionale la 25esima maradona internazionale di Roma. Questa è uno specifico dell'azienda che mi onoro di dirigere quasi tre anni. Questa è un'azienda che contestualmente fa la presa in carico dell'emergenza con questo pronto soccorso sempre aperto con il supporto a tutte le reti tempo dipendenti e siamo hub di tutto e contestualmente non abbandona i suoi specifici. Noi abbiamo alcune aree in cui siamo dei riferimenti non solo locali, dico regionali e nazionali e noi a queste abbiamo l'orgoglio di non fare un passo indietro. La diabetologia è una di queste aree, è un'area che tra l'altro investe una patologia che è una patologia sociale, il diabete sia dell'adulto che giovanile è una patologia che richiede prevenzione, cura e su questo noi riteniamo che seppur in difficoltà non dobbiamo fare un passo indietro perché noi solo così riusciremo a tenere il nostro standard, lo standard di questo servizio sanitario nazionale che dobbiamo difendere con orgoglio a livelli adeguati a quello che è un bisogno purtroppo crescente delle persone. Un altro argomento importante è sicuramente quello legato allo sportello della donna, la sanità pubblica contro la violenza di genere e qui ci sarà un bilancio di dieci anni di attività il 9 aprile, anche qui insomma siete. Qui devo dire anche questo, noi siamo stati dei pionieri su questo tema dello sportello, ovvero delle procedure e delle persone che accolgono le donne vittime di violenza. Noi raccontiamo dieci anni di storia, dieci anni di relazioni, di assistenza, di storia, di presa in carico in cui si legano i due aspetti, l'aspetto assistenziale e l'aspetto umano e di relazione che purtroppo in queste vicende vanno sempre insieme e quindi noi dobbiamo avere la forza di gestire entrambi gli aspetti. Grazie al dottor Fabrizio Dalba, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Capillo Forlalini. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi tutti da Marco Fabriani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.